nuovi dettagli sul cast de l'isola dei famosi la nuova edizione del reality show partirà su canale 5 lunedì 17 aprile subito dopo la fine del grande fratello vi alla conduzione nuovamente i lari blasi che tornerà sul piccolo schermo per la prima volta dopo la fine del suo matrimonio con francesco totti al suo fianco avrà di nuovo vladimir luxuria mentre enrico papi prenderà il posto di nicola savino ormai approdato a tv 8 minuti tutto tace invece sul fronte inviato si era parlato di paolo ciavarro figlio di eleonora giorgi noto per le sue partecipazioni a programmi come forum e amici di maria de filippi nonché ex concorrente del gf tuttavia la voce non è stata ancora confermata per quanto riguarda i futuri concorrenti il cast starebbe gradualmente prendendo forma oggi mercoledì 22 febbraio il giornale chi infatti ha svelato altri due papabili naufraghi che si vanno ad aggiungere ai nomi trapelati negli secondo le indiscrezioni come nella scorsa edizione anche quest'anno torneranno i concorrenti in coppia a tal proposito sarebbero pronte a mettersi alla prova due gemelle note per aver partecipato al dating show di canale 5 uomini e donne serena ed è serena non è nuova al mondo dei reality ha preso parte insieme al compagno pago prima a temptation island e successivamente alla quarta edizione del grande fratello vip nel 2020 d'altro canto per elga si tratterebbe della prima esperienza televisiva dal 2009 quando vestì i panni di tronista nel programma di maria proprio negli studi di ue di elga ha conosciuto il marito diego daddi con cui è felicemente sposata da sette anni serena invece dopo anni di tira e molla è recentemente tornata con lo storico compagno pago e i due sembrano aver ritrovato finalmente la serenità riusciranno a superare la dura prova di